Allo stadio Solaro di Ercolano si gioca la ventunesima giornata del campionato di eccellenza campagna a girone B tra Ercolanese e Barano. Il match termina 5 a 1 per i padroni di casa, una partita fondamentale per entrambe le formazioni. I vesuviani che sono alla ricerca di una salvezza tranquilla, gli isolani invece si giocano le ultime carte per raggiungere almeno la zona play-out. L'Ercolanese parte meglio per cercare il vantaggio attraverso una manovra ben organizzata. Nei primi minuti i padroni di casa sono pericolosi con Liguori nell'area di rigore del Barano ma il tiro finisce fuori. Lo stesso numero 10 ci riprova al 26esimo tirando da fuori area ma il portiere Mennella para. Al 38esimo la svolta del match, l'arbitro fischia un calcio di rigore per l'Ercolanese ed espelle con rosso diretto Enrichiello per aver commesso un fallo sull'avversario lanciato a rete. Sul dischetto va Orefice che porta in vantaggio la sua squadra per 1 a 0 tra le proteste degli ospiti. Pochi minuti dopo, sugli sviluppi di un calcio di punizione, il Barano va vicino al pareggio con il pallone che viene colpito in area di rigore di testa ma si stampa sul palo. Sul capovolgimento di fronte gli isolani sono scoperti e Liguori finalizza il contropiede siglando la rete del 2 a 0 che chiude la prima frazione di gioco. Pronti via nel secondo tempo arriva il tris dell'Ercolanese al primo minuto con la rete di Digiglio nata da un errore in fase di impostazione del Barano. Al nono gli isolani accorciano il passivo con il rigore trasformato da Alcazar. L'arbitro punisce un tocco di mano in area in seguito ad un cross dalla destra. Un sussulto degli ospiti che poi, per il restante secondo tempo, complice anche l'inferiorità numerica, devono inseguire. Al 26esimo si stampa sul palo e alla conclusione di Auriemma a chiudere definitivamente il match. Ci pensano Orefice al 28esimo con il gol che gli vale la doppietta personale, poi basso al 35esimo approfittando di un errore di Monti in retropassaggio. La partita termina 5 a 1. I Vesuviani vedono ormai la salvezza diretta. Per il Barano si allontanano sempre di più le speranze di restare in eccellenza.